Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come vi avevo anticipato nel video recupero di Anafi, vi avrei parlato del topolino che ho recuperato in quella fiera sabato scorso. Non ho fatto aspettare molto, ma ci tenevo a portarlo sul canale perché rappresenta un recupero molto importante in quanto questo è il primo topolino originale che entra nella mia collezione uscito nel 1949, quindi a conti fatti si tratta di uno dei primissimi albi e poi fa anche una cifra tonda in quanto è il venticinquesimo albo che possiedo tra i primi cento topolino. Quindi con questo numero che ho recuperato e di cui andremo a parlare, ufficialmente entrano in collezione un quarto dei topolino tra i primi cento in formato originale ovviamente. Questo video sarà contenuto all'interno della playlist primi cento perché per chi non lo sapesse mi occupo di recensire integralmente i primi cento topolino tutte le volte che ne entro in possesso, quindi questo sarà il venticinquesimo video, un giorno, spero non troppo lontano, ci saranno cento video. E quindi rappresenta non uno spartiacque ma comunque una tappa significativa nel mio recupero piano piano del topolino. Il numero è il 6, quindi si tratta di veramente un albo vecchissimo nella storia editoriale del topolino libretto quantomeno, che è uscito nel settembre del 1949, volume 1, numero 6, 100 pagine e 60 lire. Sappiamo, questo ve lo ripeto spesso, come topolino sia stato mensile fino al numero 39, dal 40 al 235 quindicinale e poi dal 236 giugno 60 diventare settimanale come lo conosciamo oggi. Però fin quando è stato quindicinale i numeri erano contenuti dentro dei volumi e in questo si denota ancora di più quanto sia un numero degli albori in quanto è l'ultimo numero appartenente al primo volume perché ogni volume, almeno per quanto riguarda i mensili, racchiudeva 6 numeri. Quindi questo è l'ultimo numero contenuto nel primo volume che iniziava col numero 1 e che si concludeva appunto con questo numero 6. Oltretutto all'interno troveremo delle storie iniziate proprio col numero 1, quindi senza soluzione di continuità c'è un legame molto forte con il primo numero del 49 e del resto erano passati soltanto 6 mesi. Siamo a fine estate del 49, questo è uscito i primi di settembre e troviamo una copertina di ambrogio vergani che ci rappresenta un pippo che mangia dei gelati anche se effettivamente sono un po' inquietanti perché sembrano quasi delle salsicce o delle zucchine con sopra qualcosa che può sembrare un gelato effettivamente. In quarta, visto che è un numero spillato, sappiamo che sarebbero stati così fino al 74, troviamo Paperino che guarda il nostro pippo un pochettino basito. Lo sfondo è arancione, molto interessante. Io possedevo questo numero nella ristampa anastatica del Corriere della Sera, non so che fine abbiano fatto, potrei averli dati via, potrei averli in Sicilia, quest'estate quando andrò giù assolutamente dovrò cercare di capirne qualcosa. È un numero che ha ricevuto dei restauri, lo si vede nella costina laterale, anche qua in basso sembra che ci sia stato probabilmente qualche pezzo di scoccio che è stato tolto, quindi le condizioni della copertina non sono perfette, anche dietro ha avuto un restauro qua, però rientra nel rinnovero di un albo così come io lo posso concepire. Perché questo è un numero che tranquillamente in condizioni perfette, tendente a quelle adesso, arriva a costare sui 500 euro. Io non posso, ne voglio spendere cifre del genere per un albo così. Ovviamente questo non vuol dire criticare chi lo fa, assolutamente ciascuno è libero di collezionare come ritiene opportuno in base alle proprie possibilità, prerogative, inclinazioni, eccetera, eccetera. Io ritengo che ci sia un limite che poi va di albo in albo, da situazione a situazione, non è che mi impongo prima quanto debba pagare un albo, diciamo che valuto le condizioni e se lo posso fare lo acquisto. Questo dopo una serie di trattative l'ho acquistato a 150 euro, che secondo me può essere un prezzo idoneo per un albo che comunque è del 1949. Ci sarà qualcuno che sicuramente pagherò di più, però molti altri li pagherò di meno. Queste sono scelte mie individuali, ognuno è libero di fare quel che vuole. Per il resto l'albo è integro, comprendo è anche il bollino, quindi c'è anche il bollino, ma ve lo mostrerò volta per volta. Le storie contenute all'interno, grazie alle vittorie index che vi mostrerò, sono tutte statunitensi, ma come del resto era allora, anche se poi vi farò vedere un'altra cosa. E iniziamo. Sommario a pagina 2, molto simile a quello che abbiamo visto fondamentalmente nei numeri spillati, quindi fino al 74, e questo è ancora più simile al numero 1, perché veramente è passato poco tempo. Ci sono i crediti della Mondadori, con Mario Gentili direttore, qui ci sono questi due bambini, che non penso siano apparsi da nessun'altra parte, spesso e volentieri erano personaggi del mondo Disney, che poi riprendevano magari in qualche copertina l'abbonamento, e poi qui c'è il sommario, sempre molto semplice ma efficace, quindi sia storie che rubriche sono indicate allo stesso modo, quindi non si capisce quale sia l'una e quale sia l'altra. Inizia subito a pagina 3. Topolino è lo strano potere di Flip. Allora, questa è una storia scritta da Bill Walsh e disegnata da Floyd Gofferson. È un proseguo, in qualche modo, rispetto alla prima storia, Eta Beto, l'uomo del 2000, apparsa nel numero 1 e conclusasi nel numero 5. Quindi questa è la, diciamo, una prosecuzione, con Topolino che è diventato amico di Eta Beto, lo accoglie a casa e scoprono che Flip, che poi sarebbe l'animaletto di Eta Beto, che è una sorta di cagnolino, soffre di zizzosi, che è una malattia che in pratica fa sì che chi si avvicina a lui dica la verità e quindi faranno tante prove i nostri amici, anche esilaranti, con questo venditore, con questo piazzista truffatore, con questo venditore di automobili, col cappellino di Minni e quindi porterà Topolino a dire che è orribile, ma in qualche modo Eta Beto lo farà star zitto e addirittura col nipotino di Topolino. Qua dice il nipotino. In Dax mi fa pensare che nelle prossime puntate, perché dovrebbe essere una storia in tre parti, quindi si concluderà il numero 8, apparirà anche l'altro, ma qui ce n'è soltanto uno. E addirittura, oltre a dire la verità, appaiono le cose così come sono. Questa ragazza, per esempio, si tinta i capelli di Bion, ma in realtà è Castane, Mora, eccetera eccetera. E quindi c'è qualcuno però allo stesso tempo che sta cercando di sabotare, di far ammalare Flip, ma l'ammalare sul serio, perché evidentemente con questa sua zizzosi può creare dei problemi a qualcuno. Addirittura viene fatta una trasfusione di sangue da Pluto a Flip e poi arriva una strana lettera in cui si dice come fare per guarire Flip, senza però avvisare Topolino. Quindi chi sarà stato? Vi spoilerò, c'è entrare la gamba di legno, ma lo scopriremo nelle prossime puntate. Comunque una storia ovviamente vissuta, ovviamente datata, ma comunque interessante, ben scritta, ma d'altronde Bill Walsh e Floyd Gotherson sono stati dei grandissimi autori. Poi abbiamo i giochetti, il giochetto presentato da Paperino, anche questo è molto simile a quanto avevamo sul numero uno, le prime rubriche non identiche, quindi qua ci sono un po' di giochi, alcune cose sono state già svolte, ma non mi interessa, e poi abbiamo Paperino e l'ecomagica. Questa è una storia completa di Carl Bax ai testi e ai disegni, l'uomo dell'Oregon, l'uomo dei paperi, sappiamo che ha scritto migliaia di storie nel mondo dei paperi, solo una su Topolino, e qui abbiamo questo racconto in cui sostanzialmente Paperino pare essere un grande esperto, mondiale di Eco, tanto che dovrà tenere una conferenza a Paperopoli, ma verrà in qualche modo boicottato sui nipotini perché vorrebbero che lui regalasse loro 60 centesimi per andare a vedere una partita, ma non lo vuole fare, e così faranno lì tutto per ossacolarlo, quindi lui andrà in un luogo a provare la sua Eco, ma gli risponderanno i nipotini utilizzando altri attrezzi, quindi la cosa esilarante è che si fanno tutti i problemi per 60 centesimi, ma poi spendono molto di più acquistando materiali necessari per svolgere queste attività. E alla fine Paperino rischierà di prenderle da questa associazione a cui lui si rivolge per raccontare l'Eco, se non appunto regalerà questi 60 centesimi ai nipotini, i quali poi gli toglieranno la castagna al fuoco. È una storia, qua si vede davvero che è datata, che ha una, diciamo, uno stile narrativo, ma soprattutto una comicità veramente fuori luogo oggi, ma non che sia brutta, si vede veramente che è antica. Ma è comunque di Carl Bax, quindi è scritta molto bene, è disegnata allo stesso modo, quindi comunque è storia del Topolino questa. Poi abbiamo Pluto salva la nave, subito, di Barks, Anna e George, disegnata forse da Bruce Bushman. Questa è una storia che inizia sul numero uno del Topolino, parla di spionaggio, Pluto che fa il guardiano in una nave dell'esercito ormeggiata nel porto, e alla fine, qui ci saranno le ultime due parti, che sarà una divisa in due, ma vi farò vedere, ruberà quest'osso, avrà a che fare con Medoro che è un cane che appartiene a uno di questi cospiratori, ma l'osso in realtà è una bomba e quindi, suo malgrado, Pluto riuscirà appunto a salvare questa nave da questa esplosione. La storia continua a pagina 548, quindi qua siamo a 534, perché 500? Perché appunto, essendo un volume, il primo iniziava da pagina 1 a pagina 100, il 2 da 101 a 200, eccetera eccetera, e quindi questo è il quinto, il sesso, scusate, che va dal 500 al 600. E quindi qui siamo a pagina 534, poi abbiamo un intermezzo di un'altra storia, e la conclusione di questa di Pluto in due pagine, in cui appunto termina la storia con Pluto che è un eroe. Più avanti vi farò vedere anche una pagina in cui vengono riassunte le trame delle tre storie appuntate di questo album, ma ci arriveremo. Comunque questo è interessante perché è la conclusione di una storia iniziata sul numero 1. E poi abbiamo l'allegro Walt Disney presente, i racconti dello zio Remo, l'allegro cantuccio di Fratel Coniglietto, di Chase Craig, Paul Murray e Carl Butler. Qui abbiamo protagonisti dei personaggi del mondo di Ezechiele, che conosciamo già dai primissimi numeri di Topolino, Compare Orso, Soravolpe e Fratel Coniglietto. E anche qui il tentativo sarà quello di catturare il coniglietto per mangiarlo, Soravolpe è più scaltro, Compare Orso è stupido, e alla fine verranno reggirati entrambi dal coniglietto, che nonostante siano riusciti a catturarlo, lui riuscirà comunque a liberarsi e praticamente a sconfiggerli. Non vi racconto tutta la trama, ma a gradi linea è questo, storia molto da anni 40, anni 50, ma ci sta all'interno di questo albo. Qui conclude la storia di Pluto, e poi abbiamo la pagina centrale, La piccola città, che è un disegno di Pier Lorenzo De Vita, il padre di Massimo De Vita, in cui viene presentata questa città con ideale, in qualche modo, con tutti i negozi, e con le mamme che si prendono cura dei bambini. Penso che sia anche fatto in qualche modo per trasmettere un po' di ottimismo e di positività dopo gli oroi della guerra, che era passata da appena 4 anni. Ricordiamoci che termina ufficialmente luglio 45 in Italia ad aprile, qua siamo settembre 49, gli strascichi ci sono ancora e come. Comunque molto interessante, c'è questa piccola rubrica che si può leggere. Poi abbiamo, io so quasi tutto, rubrica di Pippo, che appariva già sul numero 1, in cui sostanzialmente si fanno delle domande e Pippo risponde. Quindi per esempio chiedono per esempio alcune razze di cani, come sono identificate, alcuni sport eccetera eccetera. Quindi Pippo in qualche modo risponde come farà più avanti, per esempio Mike Buongiorno o altri, a delle domande poste da dei lettori. Ricordiamoci che siamo nel 49, quindi comunque non c'era internet, le enciclopedie devono essere molto rare, anche la radio era poco diffusa e non c'era il televisore, quindi comunque potrebbe essere un mezzo per avere qualche informazione in più, per imparare qualcosa i ragazzini. Poi qui abbiamo un disegno di Ambrogio Vergani, di Angelo Violetto e Michele Rubino, o comunque uno di quei loro tre, quantomeno di Cendax, in cui viene pubblicizzato il successivo numero di Topolino che sarebbe uscito il 10 ottobre, in cui veniva presentato l'Inferno di Topolino. Quindi la famosissima parodia di Guido Martina e Angelo Violetto. Quindi c'è qui finalmente la tanto attesa notizia, il prossimo numero di Walt Disney presente all'Inferno di Topolino, il numero 7 uscirà il 10 ottobre. Questo numero si esaurirà in meno di 24 ore, precipitatevi all'edicole. E qui c'è una tavola, quindi numero storico che spero di recuperare presto. Gli amici di Topolino, questi ragazzini oggi molto anziani, se sono ancora tra noi. E qui abbiamo la soluzione dei giochi, i riassunti delle storie che vi ricevo, quindi Etabeta lo stanno al potere di Flip, che poi in realtà dovrebbe essere la prima parte quella, se ho capito bene. Pluto salva la nave, che si conclude, e poi Popperino e mistero degli incassi, che sarà la storia a chiusura dell'albo. E poi gli amici di Topolino tesserati, e qui abbiamo il bollino che aveva questa forma con questa figura geometrica. Rubrica filatelica, sappiamo come i francobolli fossero molto in voga allora, anche negli anni 60 sarebbe stato ancora così. E poi abbiamo il lupo Mannaro fa la balia. Nei primi numeri di Topolino, come forse avete già visto il video numero 1 che vi ho fatto anastatico, Ezechiele non veniva chiamato Ezechiele Lupo, cioè nei titoli, ma il lupo Mannaro, o addirittura il piccolo lupo Mannaro, quando il protagonista era Lupetto. In questo caso, scritta da Jill Turner è disegnata da lui, troviamo Ezechiele che farà la balia a un cucciolo di elefante, che si troverà a vivere a casa dei porcellini, e quindi lui va lì perché crede di trovare l'oro. E quindi alla fine si dovrà occupare di questo anche fastidioso elefante, in certo qual modo? Lo porterà a un concorso di bellezza, ma scoprirà che il capo giuria è proprio il padre di questo elefantino che aveva affidato il figlio ad Ezechiele, e quindi chiaramente le prenderà di santa ragione. Classica storia di Ezechiele. Poi abbiamo altro personaggio molto presente nei primi anni di Topolino, Bucci, con la storia intitolata Bucci e le pepite di Carl Butner ai testi e ai disegni. Abbiamo Bucci, che è questa coccinella, non so bene cosa sia, è la sua fidanzata che si chiama Giovanna, la Giovanna, e Bucci si imbatterà in una caccia al tesoro, è un personaggio molto brillante comunque lui, tendenzialmente, anche se è un po' spaccone a volte. Quindi cerca di scavare nel terreno perché non vuole lavorare ma vuole disotterrare un tesoro nascosto da un suo antenato, ma finirà all'interno del regno delle formiche e verrà schiavizzato. Fin quando riuscirà fortuitamente ad evadere e gli andrà tutto bene perché troverà anche le monete d'oro, perché Bucci è anche molto fortunato, a differenza per esempio di Ezechiele. Un bel regalo per i vostri fratellini, i libri Susanna, anche questi ve li ho mostrati in altri numeri, la fascia 100, perché evidentemente andavano molto in voga negli anni 50 in Italia per la Mondadori e quindi c'è questa pubblicità. Qua abbiamo il Topolino Club, come iscriversi, quindi mandando qui due righe e allegando il bollino. E poi qua abbiamo il sommario, questo ve l'ho già mostrato nel numero 12 e poi credo che non ce ne siano altri. In pratica alla fine di ogni volume, in questo caso il sesto e quindi c'è il numero 6 e quindi la fine del primo volume, venivano riepilogate tutte le storie apparse, le storie o le rubriche apparse nei numeri componenti di quel volume. E quindi in questo caso abbiamo di Paperino, Paperino Milone al Verde che rappresenta il numero 1, Paperino fa una conquista numero 2 eccetera eccetera e qui abbiamo Paperino e l'Eco Magica, quello che vi ho mostrato prima. Poi le storie dello zio Remo eccetera eccetera, Bucci, i tre porcellini, storie e continuazione, storie varie, rubriche fisse, novelle e varietà. Quindi lo schema narrativo, l'impostazione degli albi era comunque molto, cioè era identico in tutti i mesi proprio per creare questa forma di sistema di suddivisione in volumi. Infatti molti numeri sono rifilati perché venivano ritagliate in parte di esse e allegate all'interno di questi volumi. Anzi era la stessa Mondadori che incentivava a far così, ci sarà un numero intorno al numero 20 credo, forse un po' prima, che non ho ancora, in cui viene proprio mostrato come togliere le copertine per fare le legature. Oggi sarebbe veramente un reato quasi pensare di fare una cosa del genere. Quindi sommari del storie del 49. Poi abbiamo Paperino e il mistero degli Incas, l'ultima storia a puntate, di cui c'era anche il riassunto prima, vi ho fatto vedere, scritta e disegnata a Karl Barks. Questa è una storia famosa, è abbastanza conosciuta, nonostante sia così vecchia. In pratica Paperino e Nipotini finiscono in una terra popolata da persone, da degli abitanti che hanno delle forme quadrate e delle galline che depongono delle uova quadrate. Quindi rischiano di essere uccisi, giustiziati, a meno che non riescano a produrre dei palloncini, quindi di chewing gum, in forma quadrata. Chiaramente è impossibile, ma poi attraverso un sotterfugio i Nipotini ce la faranno, riusciranno a farsi liberare e torneranno a casa, ma non del tutto contenti. E la storia si conclude qua. Poi abbiamo l'ultima storia, lunga, un po' naif. Dumbo nella Via Lattia, è disegnata da Tony Stroble, l'autore non è riportato su Indax. Siamo nel periodo in cui Dumbo era molto recente, è uscito nel cartonato del 43, ma arriverà in Italia solo nel dopoguerra, quindi di fatto era appena arrivato, e quindi si spingeva, come era costume allora, ma come sarebbe stato per tanti anni, sul cartone animato che la Disney aveva prodotto in quegli anni. In questo caso abbiamo Dumbo, che cerca di giocare con altri due elefantini, che però lo prendono in giro per il fatto che sa volare, quindi viene sempre maltrattato. È un povero un povero disperato, insomma, Dumbo, fatta nerezza, e lo imbrogliano dicendogli che a un certo punto lo faranno giocare, ma lo imbroglieranno per allontanarlo e gli fanno credere di aver distrutto un pezzo di luna, e che è necessario andare lì per ricostruirla. C'è un'apparizione dei sette Nami, a cui Dumbo si rivolge per chiedere, insomma, del materiale necessario per sistemare la luna, e poi a un certo punto vola nello spazio, quindi niente atmosfera, nessun problema di respirazione. Viene salvato da questi bambini che volano con questa scarpa, con questo zoccolo, quindi nel cielo, quindi una storia veramente surreale. E finisce in casa di questo gigante che si trova nella Via Lattea, qui vedete la Via Lattea che sono delle bottiglie di latte intero, che per chiedergli di, insomma, di aiutarlo a risolvere questo problema della luna, ma in realtà il gigante è cattivo, come sempre, sembra molto il gigante dei fagioli magici, e Dumbo alla fine sarà liberato da questa zanzara che porterà con sé sulla terra, e alla fine si riappacificherà anche con gli altri elefantini e diventerà, insomma, sarà ben voluto e diventeranno tutti amici, saranno felici e contenti. Storia lunga e surreale, però comunque al netto degli anni che ha, si riesce a leggere egregiamente. Ho trovato un po' più pesantuccia nella lettura quella di Paperino con le uova quadrate, quello degli Incas. Pagina 99, che poi in realtà è 599, troviamo la storia che si conclude in terza di copertina con un formato ben diverso dalle altre, anche sul numero 1 è così con Zio Paperino del Segreto del Castello, e poi in quarta abbiamo appunto il disegno di Vergani con Paperino che guarda sbalordito Pippo. Questo è il numero 6, mi sono dilungato un po', ma ci stava. Albo bello, molto interessante, storico, l'avevo letto da anastatico, ma credetemi, leggerli in originale, dà proprio un'altra sensazione, non so se riesco a spiegarmi, ma chi colleziona mi può capire bene. Le storie sono tutte gradevoli, chiaramente sono datate, però ci stanno assolutamente, e niente. Questo entra in collezione, farò presto un video, uno short, in cui mostrerò i 25 albi che ho dei primi 100, e comunque questo e gli altri video potete trovarli all'interno della playlist I primi 100. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao!